Salve a tutti ragazzi, siamo all'Acqua Fan di Riccione, insieme a Maxibon vi vogliamo parlare di un tema importante. Non tutti i mix sono perfetti. Non spegni il suo telefono, stiamo parlando di una cosa seria. A proposito, guardate cosa è meglio non fare con questo in mano. Tipo, siete in macchina felici, state ascoltando la vostra canzone preferita e la cantate a squarciagola. Grido in macchina per tutta la città. All'improvviso abbiamo un messaggio e pensate che sia la cosa più importante del mondo. Allora incominciate a pensare che possa essere. Ma vuoi vedere che è Giulia Penna che mi vuole chiedere un duetto? La voglia di sbriciare è sempre più forte, così decidete che non potete più aspettare. Prendete il telefono e leggete il messaggio. Per un pelo. Per di più, quasi sicuramente non è Giulia Penna che vi chiede un duetto. Ragazzi, come avete visto non tutti i mix sono perfetti. Evitate di usare male il vostro telefono perché potrebbero esserci conseguenze anche molto gravi. Dall'acqua fa nel tutto.